Salve a tutti ragazzi bentornati in questo nuovissimo video, io sono Mystic, scusate sono un attimo raffreddato e infatti sentirete un po' la voce da somalo, super mega pedofilo eccetera eccetera Portiamo oggi un record mondiale realizzato da Genotics ragazzi, infatti vi invito a passare dal suo canale che sarà qui in descrizione perché se lo merita veramente tanto E inoltre vi invito a fare una cosa, se lo state guardando condividetelo perché deve raggiungere più persone possibili Infatti essendo un record mondiale ci teniamo che venga valorizzato al massimo e quindi dovete riuscire a condividerlo a più persone possibili Innanzitutto ci tengo a dire anche che ho fatto il montaggio quindi sono riuscito a capire anche come si inserisce il cronometro Quindi Peppe sarà fiero di me, grazie Peppe che mi ha insegnato e sarai fierissimo del tuo grandissimo commentatore che ti fa queste cose Mamma mia GGWP E appunto concludendo perché tanto come sapete 82 secondi sono pochissimi per realizzare un nuclear E quindi ho pochissimo tempo ovviamente in veterano e mappa combine, la mappa, l'arma Razorback Specialità insomma dovrebbe essere il solito che si usa su un veterano Io vi invito quindi a lasciare un like a questo video, condividerlo come detto prima A iscrivervi al canale se ancora l'avete fatto Passare quindi dal canale di Genotics e anche al mio se vi va che saranno qui in descrizione perché merita tantissimo quello di Genotics ovviamente Perché porta dei record assurdi Spero che questo video vi sia piaciuto Vi invito a iscrivervi se ancora l'avete fatto ovviamente nuovamente Ci becchiamo ad un prossimo video Bella You can tell by how I word it So being around that energy I feel I can't afford it Talking back